Cioccolata calda alla Nutella, facile, veloce, buonissima, immancabile nelle giornate invernali. Ragazze provatela perché è una vera e propria delizia. Se provate questa ricetta mi raccomando ragazzi lasciatemi un commento e fatemi sapere cosa ne pensate. Prendete una ciotola, versate 5 cucchiai di amido di mais, 4 cucchiai di cacao amaro, setacciate bene il tutto e poi versate 4-5 cucchiai di zucchero semolato. In alternativa potete utilizzare lo zucchero di canna oppure il miele, un dolcificante, quindi potete personalizzare la ricetta. Però vi consiglio di mettere almeno 4 cucchiai di zucchero perché se no è inferiore ai 4 cucchiai secondo me può risultare amara. Comunque potete personalizzare in base ai vostri gusti. Una volta che avete amalgamato bene il tutto prendete una pentola e versate 700 ml di latte. Io utilizzo il latte di soia, in alternativa potete utilizzare il latte vaccino oppure un altro tipo di latte vegetale. Tottiamo la pentola ai fornelli. Quando il latte risulta ben caldo, però mi raccomando non deve bollire, deve risultare solo ben caldo, lo versiamo nella ciotola. Sciogliamo bene i grumi. A questo punto versiamo il nostro composto in una pentola e passiamo ai fornelli con una fiamma medio-bassa. Continuiamo ad amalgamare bene il tutto e quando risulta ben caldo versiamo in 2 cucchiai abbondanti di nutella. Continuiamo ad amalgamare bene il tutto per sciogliere la nutella e quando arriva il tutto ad ebollizione possiamo scegliere la cremosità della nostra cioccolata calda. Quindi dopo l'ebollizione continuate ad amalgamare bene il tutto per circa 1, 2 o 3 minuti. Dipende dalla cremosità che vi piace, quindi scegliete voi. Che dico ragazzi? Spero che questo video vi sia utile e mi raccomando iscrivetevi nel mio canale YouTube Cartizia e attivate la campanella perché se attivate la campanella ogni volta che pubblico un video vi arriverà subito la notifica e quindi non perdete più neanche una video ricetta super golosa. Vi aspetto anche su Facebook, su Instagram oppure su TikTok come ricetta golosa di Cartizia. Aspetto i vostri commenti mi raccomando e lasciatemi un bel like se volete e condividete il video. Adesso vi mando un bacione grande grande e ci vediamo al prossimo video tutorial. Guardate la mia cioccolata calda alla Nutella super super golosa. Ci vediamo al prossimo video tutorial. Ciao, baci da Cartizia, alla prossima!